Allora, qui vedremo come collegare il nostro dispositivo infrarossi a Amazon Alexa. È davvero molto semplice. Aprite l'applicazione Amazon Alexa. A questo punto ci ritroveremo Cerca Skill. Noi clicchiamo qui. Qui sopra vedrete una lente di ingrandimento. Andiamola a cliccare. E dobbiamo cercare Smart Life. La stessa applicazione che avete scaricato in precedenza. Quindi clicchiamo. Qui troveremo Abilita all'uso. Quindi noi andiamo a cliccare Abilitazione all'uso. E qua ci chiederà di accettare e collegare. Accettiamo. Ok, il tuo account Smart Life è stato collegato. Quindi andiamo a chiudere. E torniamo indietro. Torniamo nella Home. A questo punto andate su dispositivi. E andate su tutti i dispositivi. Qua sopra in alto. E vedrete che vi apparirà tutti i dispositivi che avete collegato in precedenza. Tutti i dispositivi che avrete collegato attraverso l'applicazione Smart Life. Quindi in questo caso avete collegato Alexa al vostro dispositivo infrarossi. Quindi basta dire delle semplici parole come Alexa accendi TV. Oppure Alexa aumenta il volume TV. Oppure se volete cambiare canale. Alexa manda avanti canale TV. Oppure Alexa manda indietro canale TV. Dovete sempre dire la parola chiave del dispositivo che avete collegato. Tipo TV. Se avete un condizionatore allora dovrete dire condizionatore. Quindi Alexa accendi condizionatore. In questo modo. Semplice no? Mi raccomando iscrivetevi al canale e accendete la campanella. Lasciate un mi piace. Se volete tornare al video principale. Cliccate qui sopra. Apparirà il video. E voi tornerete lì. Ciao. Non hai cliccato? Forza clicca. Clicca che torni dal video principale.